Barbara D'Urso ha sorpreso il pubblico con la sua decisione di lasciare Mediaset durante la scorsa estate, mettendo fine alla conduzione di programmi popolari come Pomeriggio 5 e Domenica Live, che hanno ottenuto un grande successo nel corso degli anni. I retroscena svelati. Novella 2000 ha recentemente riportato un inaspettato retroscena riguardante l'addio di Barbara D'Urso a Mediaset. Secondo quanto svelato da D'Ago Spia, dietro le quinte si è consumata una situazione tesa legata alla decisione della conduttrice. Il portale ha rivelato che Barbara sarebbe stata allontanata in modo brusco dal figlio di Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, senza considerare il rapporto che aveva con Mauro Crippa, il produttore dei suoi programmi. Secondo il reportage, Pier Silvio avrebbe ignorato le opinioni degli altri influenti soggetti, come Silvia Toffanin, decidendo unilateralmente. Un nuovo capitolo in tv. Circolano voci riguardo a un possibile ritorno di Barbara D'Urso in tv, questa volta come concorrente nel programma di Millie Carlucci, Ballando con le stelle. Millie Carlucci ha sottolineato in un'intervista a tv Sorrisi e Canzoni che unirsi al cast del programma richiede impegno e la volontà di aprirsi e mettersi in gioco quotidianamente. Sarà pronta Barbara a abbracciare una nuova sfida e a raccontarsi in un ruolo diverso sul piccolo schermo? Il mondo della televisione italiana continua a sorprenderci con le sue dinamiche inaspettate. L'addio di Barbara D'Urso a Mediaset e i retroscena emersi gettano luce su un capitolo che sembrava chiuso. Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i prossimi passi professionali della celebre conduttrice, e se l'opportunità di Ballando con le stelle segnerà un nuovo inizio nella sua carriera televisiva.